Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il film che vinse la Palmadora Canne nel 2006 a moltissimi altri film. Direi che siamo pronti. Signore e signori, Liam Cunningham. Grazie a tutti. con le risposte di Liam, allora Liam, la tua prima volta a Benevento, your first time in Benevento, how is it going so far, come va? Look! I guess you're enjoying the wine in here, and not only that. My son, we have just been in a restaurant and my son was in the kitchen making pizza. I'm very lucky, I don't think I'm Irish, I think I'm Italian. So tell me some more words that you learn these days in Italian. I know that there is a good one, s, s, s. What is it? You know the word that you learn? The word that I... When you eat, at the end, when you eat like pasta. Oh, scarpetta! Scarpetta! I love that. I couldn't eat dinner last night because I was Mr. Scarpetta for lunch. I'm going to be in the evening because I've done a scarpetta for lunch. Yeah, oh, beautiful pasta, I love it. Mozzarella, burrata, strazziatelli. I love it here. I'm going to be 300 kilos before I get it. 100 kilos prima di partire. Vabbè, diciamo che si è adattato bene il nostro riamo all'Italia. Allora, torniamo a serie. Parliamo di The Hot Zone e vediamo un piccolissimo promo di The Hot Zone. Stai imparando. Si è evoluto. Sta succedendo adesso, in Congo. E dal Congo è passato all'Uganda. E come vedrete all'inizio del film è successo in aereo. Ed è impossibile fermarlo. E' per lui? E' una telefonata per lui. E' molto difficile da guardare. Non è una commedia. E' molto importante. E dire che Giuliana Margulies è una dea. E' un'attrice fantastica. E' una donna bellissima. E' stato molto fortunato di lavorare con lei.